Perfetto, grande bruttezza Angelo Raffarelli e Francesco Morani! Con cosa chiudiamo? Wow, siete in passeggiata! Anche noi siamo qua, che vi salutiamo dalla bellissima Piedra Santa, incorniciati dal gate della pace all'inizio del corso che porta proprio a Gov, professore. Gate e la pace all'anima vostra, l'artista americano Nal, che l'ha fatto bendato al buio nel suo studio e poi l'ha mandato qui di notte. Vogliamo chiudere che c'è una cosa molto bella, sotto... Sotto il ponte di Varese abbiamo scoperto un caravaggio sconosciuto, che è un graffito dell'artista Andrea Bravo, Mattoni, del 1981. Anziché fare uno dei tag, un fitto zzzzzzz, o puff, o puff, ha rifatto un caravaggio come un poletter spray che non è facile. Allora, sì, dentro sono i ponte di Varara... E' il primo che sposta, me lo fai rivedere il caravaggio? Mi fai rivedere il caravaggio? Il primo che lo sporca con una tag, gli mando Jake Rafferty. E' lì, bravo! Giusto! Non si tocca, no, questo è stato fatto io personalmente. Esatto, grazie Angela, grazie a voi! Mi faccio cosa io!